Musica Dopo 24 ore di ripresa dei combattimenti israele ha colpito oltre 400 obiettivi terroristici nella striscia di Gaza l'Unicef denuncia prima della tregua uccisi più di 5.300 bambini palestinesi Fermare il delirio di onnipotenza di cui il clima è impazzito solo un sintomo è l'appello di Papa Francesco all'Assemblea sul clima delle Nazioni Unite a Dubai un testo letto dal cardinale Pietro Parolin, il pontefice assente per motivi di salute 9 ore di interrogatorio per Filippo Turetta, costellato di non ricordo incongruenza la difesa punta, la perizia psichiatrica, raptus improvviso, Giulia morta per una coltellata al collo la sera stessa del rapimento Buongiorno dal TG2000, sono ripresi all'alba, dunque bombardamenti sulla striscia di Gaza mentre un attacco aereo israeliano avrebbe colpito ieri sera, secondo i media siriani anche vicino a Damasco, sentiamo la cronaca di Massimiliano Cochi Dopo sette giorni di tregua i bagliori delle esplosioni sono tornati ad illuminare la notte di Gaza nelle ultime 24 ore, da quando cioè sono ripresi i combattimenti l'esercito di Israele ha fatto sapere di aver colpito oltre 400 obiettivi fonti locali riferiscono di un'estesa operazione di terra in queste ore nella zona di Khan Yunis nel sud della striscia, dove si ritiene possano essere nascosti i leader di Hamas i palestinesi uccisi tra civili e combattenti sarebbero 240 dai territori della striscia le brigate Zedin al-Kassam hanno rivendicato il lancio di razzi contro diverse città nel sud di Israele Benjamin Netanyahu ha ribadito che la guerra andrà avanti fino all'eliminazione totale di Hamas ma il suo governo, grazie soprattutto alla pressione delle famiglie degli ostaggi e degli Stati Uniti sarebbe pronto a negoziare una nuova tregua per liberare altri cittadini israeliani la pausa nei combattimenti ha consentito la liberazione di oltre 100 prigionieri su 239 stimati da Israele e l'ingresso tramite il balico di rafa di centinaia di camion di aiuti l'obiettivo, nonostante la rottura di due giorni fa, è riallacciare subito il filo fra Israele e Hamas a questo stanno lavorando i mediatori del Qatar con il sostegno di Stati Uniti ed Egitto il consigliere per la sicurezza nazionale americano John Kirby lo ha detto chiaramente vogliamo vedere più ostaggi uscire da Gaza e più aiuti a entrare un segnale positivo in questo senso sembravano i camion carichi di cibo e attrezzature mediche che ieri sera avevano ripresa ad entrare a Gaza attraverso il balico di rafa ma questa mattina tutto si è di nuovo bloccato la mezzaluna rossa ha infatti reso noto che Israele ha vietato l'ingresso di camion umanitari a partire da oggi e fino a nuovo ordine intanto l'Unicef denuncia prima della tregua uccisi più di 5.300 bambini palestinesi Barbara Masulli la prima cosa da raccontare di una guerra dovrebbe essere quanti bambini muoiono e a Gaza ne stanno morendo tantissimi secondo l'Unicef in 48 giorni di bombardamenti prima della tregua sono stati uccisi più di 5.300 bambini palestinesi un dato fa sapere il fondo delle Nazioni Unite che non include i minori dispersi e presumibilmente sepolti sotto le macerie da ieri la striscia di Gaza dice la direttrice generale dell'Unicef Katrin Russell è di nuovo il luogo più pericoloso al mondo per essere bambino con la ripresa dei bombardamenti infatti il numero delle vittime aumenterà senza contare quanti bimbi rischiano di morire di fame e di malattie in un quadro umanitario sempre più catastrofico dall'altra parte ci sono i minori israeliani tenuti in ostaggio da Hamas alcuni di questi per fortuna liberati sempre Russell spiega che per sette giorni c'è stato un barlume di speranza più di 30 bambini che erano prigionieri a Gaza sono stati riuniti alle loro famiglie da qui l'appello a proteggere tutti i minori dello stato di Palestina e di Israele che meritano la pace e un futuro migliore un futuro che non avranno il piccolo Kefir Bibas di 10 mesi e suo fratello Ariel di 4 anni rapiti lo scorso 7 ottobre dai terroristi e rimasti uccisi secondo Hamas nei bombardamenti dell'esercito israeliano a Gaza Proseguono i lavori della COP28 questa mattina il segretario di Stato Vaticano Parolin ha letto il discorso che avrebbe dovuto pronunciare Papa Francesco assente per evitare peggioramenti dell'infiammazione polmonare che lo ha colpito in questi giorni Cristiana Caricato L'ora è urgente, il futuro dipende dal presente che scegliamo la voce è del cardinale Pietro Parolin ma la densità dell'appello è tutta di Francesco assente alla COP28 per l'infiammazione polmonare che lo affligge da giorni il Papa fa arrivare il suo messaggio sono con voi perché la devastazione del creato è un'offesa a Dio un peccato strutturale che si riversa sui più deboli e incombe su ciascun essere umano rischiando di scatenare conflitti un discorso alto in cui riecheggia l'ansia a chi attraversava l'esortazione apostolica laudate deum il cambiamento climatico, problema sociale e globale la necessità di accogliere e curare il gemito della terra il bisogno di arrestare il surriscaldamento del pianeta e di limitare l'aumento dei gas serra l'imperativo di fermare il delirio di onnipotenza di cui il clima impazzito è solo un sintomo il pontefice mette in campo tutta la sua autorevolezza nel chiedere ai potenti di non rimandare più il bene del mondo e di cercare una strategia comune che vada oltre nazionalismi e particolarismi invoca un sussulto di responsabilità ma anche di onestà nel riconoscere che non sono certo i poveri del mondo ad essere colpevoli sfruttatori delle risorse ma al contrario le vittime di un sistema che depaupera il pianeta spazzato via l'alibi della crescita demografica non controllata Francesco si concentra piuttosto sulla proposta di rimettere i debiti finanziari che gravano su alcuni popoli alla luce del debito ecologico accumulato da paesi ricchi nei loro confronti la via d'uscita insiste è il multilateralismo per la cura del creato come per la pace troppe energie e risorse nelle guerre dirottiamo il denaro speso per le armi in cibo per sconfiggere la fame uniamo le forze e usciamo dalla notte buia della guerra il suo accorato lascito ispirato dal santo di Assisi la Coppa 28 di Dubai può essere il punto di svolta sul fronte di guerra ucraino dove l'antiaerea di Kiev ha battuto 10 degli 11 droni d'attacco Shaed e un missile da crociera Kh-59 lanciati dalla Russia nella notte sentiamo Alessio Orlandi da settimane ormai non si registrano più grandi avanzamenti sul terreno né per le forze armate ucraine né per quelle russe la conferma arriva anche dal leader di Kiev Zelensky che ha annunciato modifiche alle procedure di mobilitazione dei soldati a causa di una controffensiva poco brillante nelle regioni meridionali pochi giorni fa la BBC aveva fatto sapere che 650.000 ucraini in età da combattimento erano fuggiti dal paese e avevano ottenuto la residenza nell'Unione Europea anche il presidente russo Putin ha firmato ieri un decreto per aumentare del 15% i militari dell'esercito di Mosca a causa, ha specificato il Cremlino, delle crescenti minacce legate alla guerra e alla continua espansione della Nato la misura riguarderà 170.000 cittadini sul terreno la guerra si è sostanzialmente ridotta a un reciproco lancio di missili e droni 10 quelli russi abbattuti in sopra Odessa dalla contraerea hanno specificato le autorità ucraine nessuna vittima intanto ieri in una conferenza stampa a margine del vertice Osce a Scopie il ministro degli esteri russo ha sostenuto che a fine maggio del 2022 era stata raggiunta un'intesa per fermare la guerra ma saltò, ha fatto sapere Lavrov, per l'opposizione dell'allora premier britannico Johnson Ora il femminicidio di Giulia Cecchettin con i primi risultati dell'autopsia sul corpo della giovane e l'interrogatorio di Filippo Turetto una deposizione segnata da lunghi silenzi incongruenze, non ricordo probabilmente martedì a Padova, il funerale di Giulia Lettrice Bossi È tardasera quando il magistrato e i legali di Filippo Turetta lasciano il carcere per nove ore ieri sera il ragazzo ha risposto alle domande del pubblico ministero un interrogatorio fiume, pieno di silenzi, lacrime e non ricordo salta il pranzo, chiede solo l'acqua e racconta la sua versione dei fatti ma quando gli si chiedono i dettagli dell'aggressione non riesce a spiegarne i motivi non so cosa mi è scattato in testa, ha detto agli inquirenti ribadendo in sostanza quello che già aveva confessato la scorsa settimana al giudice per le indagini preliminari dichiarazioni che aiutano a scrollargli di dosso l'accusa della premeditazione su cui invece lavora la procura ci vorrà tempo per definire le aggravanti e l'eventuale entità della condanna di sicuro intanto c'è l'orario della morte di Giulia Cecchettin l'autopsia eseguita ieri a Padova e durata ben 14 ore la colloca alle 23.40 dell'11 novembre la giovane ragazza in quel momento si trovava a Fossò con l'ex fidanzato tra loro si stava consumando l'ultimo atto di una lite cominciata 25 minuti prima sono oltre 25 anche le coltellate profonde riscontrate dai medici tante anche sulle mani in segno di un tentativo estremo di difesa una fatale al collo che l'ha fatta cadere a terra e l'ha uccisa per shock emorragico alcuni esami autoptici devono ancora avere risposta gli esiti saranno decisivi per definire l'aggravante della crudeltà Meteo il fine settimana inizia con l'Italia divisa in due con il nord al gelo e il centro-sud con temperature quasi primaverive oggi allerta rossa in diverse regioni del nord del centro previsti venti anche forti lunedì l'arrivo di una nuova perturbazione con un abbassamento generale delle temperature intanto si è conclusa alle 21.35 circa di ieri l'attività di Fontana di Lava al cratere sud-est dell'Etna lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ogni anno il nostro paese registra una spesa pubblica di mille miliardi di euro tra pensioni, stipendi, consumi intermedi, sanità e assistenza ogni anno il nostro paese registra una spesa pubblica superiore di oltre 5 volte il PNRR nel 2023 le uscite dello Stato supereranno in termini assoluti mille miliardi di euro ma a differenza del PNRR non c'è la stessa attenzione della politica e dell'opinione pubblica su come vengono spese queste risorse, anch'esse pubbliche Su come spendiamo i soldi del PNRR c'è giustamente un monitoraggio attento e minuzioso altrettanto non possiamo dire sull'attività di controllo che riserviamo la spesa pubblica quest'ultima, ricordiamo, ci costa oltre mille miliardi di euro all'anno ma di spendi in review non ne parla più nessuno Secondo le ricerche effettuate dalla CGA di Mestre si tratta di due pesi e due misure che tra le altre cose non permettono di tagliare misura strutturale di tasse infatti se ci fosse una spesa pubblica più contenuta sarebbero necessarie meno entrate per mantenere in equilibrio i conti dello Stato con grossi vantaggi economici per le tasche dei contribuenti italiani tra il 2022 e il 2024 infatti la spesa pubblica si attesta stabilmente poco sopra i mille miliardi di euro la componente più importante è quella della cosiddetta parte corrente ovvero delle retribuzioni dei dipendenti pubblici dalla sanità eccetera che incida il netto degli interessi sul debito attorno al 90% della spesa la voce più onerosa è riconducibile alle pensioni che prevedono 317 miliardi e mezzo di euro la Corea del Sud ha lanciato il suo primo satellite spia con SpaceX due settimane dopo il lancio di una sonda da parte di Pyongyang intensificando la corsa allo spazio nella penisola monitorerà la Corea del Nord dotata di armi nucleari Seul prevede di lanciare altri 4 satelliti spia entro alla fine del 2025 per rafforzare la sua capacità di ricognizione sul Nord ora parliamo di calcio si avvicinano gli europei di calcio 2024 questa sera alle 18 l'estrazione degli avversari del girone dell'Italia Federico Plotti Sarà un sorteggio decisamente complicato per l'Italia quello di questa sera ad Hamburgo in cui si decideranno i gironi del campionato europeo che si disputerà in Germania la prossima estate non conta essere campioni in carica per gli azzurri relegati in quarta fascia la strada sarà insalita sin dall'inizio colpa di un girone di qualificazione decisamente magro dove siamo arrivati secondi ma riuscendo a vincere solo 4 partite su 8 quasi certo dunque un raggruppamento di ferro con una tra Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Belgio tutte teste di serie a cui potrebbe raggiungersi dalla seconda fascia le insidiose Danimarca e Austria e dalla terza le pericolosissime Olanda e la Croazia sul podio agli ultimi due mondiali ad assistere alla cerimonia del sorteggio alle 18 il commissario tecnico Luciano Spalletti e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dita incrociate sperando in un po' di fortuna 24 le nazionali ai nastri di partenza 6 gironi da 4 squadre ciascuno si qualificano agli ottavi di finale le prime due e le quattro migliori terze si partirà venerdì 14 giugno con la partita inaugurale a Monaco di Baviera in cui scenderà in campo la Germania padrona di casa la finalissima in programma esattamente un mese dopo il 24 luglio all'Olimpia Stadium di Berlino lo stadio in cui l'Italia ha trionfato nel campionato del mondo del 2006 100 anni fa nasceva Maria Calla sicona della lirica con un talento formidabile accompagnato da una forte personalità la soprano greca nata negli Stati Uniti disse solo 53 anni Pierluigi Vito era detta la divina e segni per capire questo soprannome ne ha forniti in abbondanza Maria Callas a cominciare dalla voce certamente potente e armoniosa struggente e impetuosa divenuta per melomani e critici musicali termine di paragone per giudicare le colleghe a lei contemporanee e quelle dei tempi seguenti Maria, Anna, Cecilia, Sofia, Calogheropoulou questo è il suo vero nome nacque a New York il 2 dicembre di un secolo fa e morì ancora prima di compiere 54 anni a Parigi una stella che in poco tempo ha illuminato tanto le scene dei più prestigiosi teatri lirici quanto le cronache mondane basti pensare alla turbolenta relazione col miliardario greco Aristotele Onassis corteggiata da numerosi cineasti accettò per il grande schermo solo il ruolo di Medea offertole da Pierpaolo Pasolini figura tragica e immortale a cui l'artista greca offrì un corpo irrequieto che pare monco nella mancanza del suo dono eccelso quel canto che ancora non smette di ammaliare l'ascoltatore è tutto per ora vi lascio al meteo a Borghi d'Italia che oggi ci porta all'Aquila grazie per averci seguito a più tardi grazie per averci seguito